L'estriero, quanto pesava quel pallone in occasione del rigore che poi va solo 1-1? Pesava discretamente tanto, effettivamente, però sono contento che ha sbagliato l'angolo al portiere e non l'ho azzeccato io, quindi contento del gol, contento soprattutto che sia servito a prendere poi tre punti. Tanta soddisfazione immagino all'interno dello spogliatoio, una partita che il Savona ha condotto in maniera esemplare, secondo me, atteggiamento poco brillante all'inizio, ma poi siete venuti fuori anche contro una squadra tecnicamente più forte, perché la Sanremesa aveva in rosa giocatori più dotati da questo punto di vista, ma il carattere, la grinta alla fine vi ha premiato. Direi di sì, ora, secondo me abbiamo sbagliato l'approccio nei primi 10-15 minuti, abbiamo letto male il vento, abbiamo letto male anche il loro atteggiamento che attaccavano alti e sono partiti forti. Abbiamo preso il gol e evidentemente quello è servito la scossa, anche perché era tanto che non andavamo sotto in casa, però la reazione c'è stata e si è vista, abbiamo creato tanto nel primo tempo, è stato importante far gol nel primo tempo e poi secondo me, secondo il tempo, c'è stata anche poca storia, al di là del fatto che poi il gol sia arrivato alla fine, la superiorità secondo me è stata abbastanza netta. Cosa vi ha detto il mister nello spogliatoio dopo l'1-1 finale del primo tempo? Il mister era un po' arrabbiato per i primi minuti, perché lui pretende che si rischi il meno possibile, però al di là degli aspetti tattici ci ha caricato come sempre fa, lui punta tanto sull'aspetto mentale, sull'atteggiamento e direi che poi siamo entrati abbastanza cattivi per conquistare i tre punti. Giovedì si torna in campo e c'è uno spareggio play-off contro il Viareggio. Sì, queste sono tre partite importanti, in quella di oggi sono tre partite importanti. Penso che dal momento da cui veniamo e dall'entusiasmo che abbiamo possiamo andare là con la tranquillità di non avere niente da perdere, perché obiettivamente arrivarla su in cima è dura e dispiace purtroppo. Però l'obiettivo è fare più punti possibili da quella fine, quindi andremo là per vincere.